Buongiorno ragazzi, a parte di Federico Taolo, oggi sono qui per parlarvi della partita fra Lazio e Atletico Madrid della fase a gironi della stagione 2023-2024, la prima giornata, ebbene, come cominciare ragazzi? Come lo faremo? San Provedere, mamma mia, quanto ci hai fatto godere, un gol da attaccante vero, è stato straordinario segnare in questa maniera, però adesso torniamo alla partita, un pareggio che ci sta strettissimo, secondo me la Lazio non meritava di perdere per quello che aveva proposto in tutta la partita, è vero che certe volte quando arriviamo in area di rigore delle squadre avversarie siamo molto inconcludenti, molto imprecisi in certi passaggi, è vero che il gol dell'Atletico è stato un po' fortunoso su un autogol di Camada, però non si può dire che la Lazio abbia giocato male, hanno reagito bene dopo la brutta sconfitta contro la Juventus all'Allianz, se avessero giocato così anche con la Juventus avremmo potuto avere qualche speranza, ma adesso tornando al gol all'ultimo respiro, quanto goduto, non ci credevo neanche che Provedere l'avesse segnato, ho paura che lo annullassero, ma ovviamente il gol è regolarissimo, ma il pareggio mi sembra il risultato più giusto per noi ovviamente questo pareggio equivale a una mezza vittoria, per l'Atletico Madrid ovviamente a una mezza sconfitta io onestamente non ci speravo che la Lazio avrebbe pareggiato, è vero che abbiamo avuto l'appoggio di tanti sostenitori ieri sera era anche la prima volta che dopo tanti anni che il Ciolo tornava a Roma, Ciolo sarà sempre uno di noi guarda Diego, Pablo, Simone sempre nei nostri cuori, sempre un grande laziale, ovviamente ieri era il nostro avversario quindi dovevo mettere da parte questi sentimenti, ma è stato molto bello lo striscione della curva che hanno riservato a Simone, veramente delle belle parole, ovviamente Simone rimarrà sempre uno degli eroi della Lazio dello Scudetto 99-2000, l'Atletico onestamente non mi ha impressionato più di tanto abbiamo comunque giocato contro una delle migliori squadre, però non è un Atletico che mi sono detto caspita come sono forti, abbiamo mantenuto molto il possesso della palla, però dobbiamo cercare per le prossime volte di concretizzare le occasioni, ci lamentavamo tanto di un attaccante, avete visto Provedel che gol ha fatto e ce l'abbiamo l'attaccante, vabbè, a parte gli scherzi, così deve essere lo spirito della Lazio combattere fino all'ultimo, la Lazio è vero che non mi è piaciuta proprio al 100%, però ha voluto veramente questo pareggio a tutti i costi, ci ha messo il cuore, ci ha messo l'anima, stavolta non possiamo dire niente ragazzi, non possiamo rimproverarli perché hanno fatto una prestazione decente, non l'abbiamo affatto sfigurato contro l'Atletico Madrid, neanche nelle altre partite e dobbiamo cercare di essere un po' più precisi quando arriviamo nell'area avversaria e questo secondo me è lo spirito giusto, è lo spirito che dovremo adottare nelle prossime partite, lo stadio ovviamente tornando al gol di Provedel è andato in estasi perché un gol fantastico così allo scadere, veramente la Lazio meritava e siamo stati anche molto sfortunati in questo periodo, però la fortuna bisogna anche cercarla e stavolta abbiamo ottenuto questo pareggio e adesso a caccia dei punti in campionato, quindi cercheremo di un po' alzare un po' la media in campionato e vincere un po' di partite per tirare su un po' il morale ragazzi per oggi è tutto, grazie per avermi ascoltato, come al solito se vi piace il canale non esitate ad abbonarvi non dimenticate di lasciare un bel like e alla prossima, ciao!